È un atto dovuto credo, credo sia un atto dovuto, parliamo di diritto alla salute quindi la nostra Piana di Gioia Tauro ha bisogno di avere garantito il diritto alla salute. Stiamo trattando una tematica delicata e importantissima come il diritto alla salute e quindi anche eventualmente guardare con un occhio di riguardo a quello che dovrebbe essere poi la costruzione del nuovo ospedale senza distinzione di sorti, senza ma, senza se, tutti uniti facendo fronte comune su una questione e su una tematica così importante. Sì, siamo presenti proprio per dare un segnale che il territorio è unito, è unito su questa lotta alla sanità perché ormai, guardi, a livello di campanile non c'è più ognuno da difendere, tutto è stato smantellato in questo territorio. Noi abbiamo necessità oggi di rivendicare con forza che l'ospedale nuovo di Palmi va realizzato ma nell'emore della realizzazione dell'ospedale nuovo di Palmi vanno mantenute quelle che sono le strutture e per mantenere intendiamo lo sblocco del turnover e investimenti sulle strutture esistenti e iniziali dall'ospedale di Polistera. Sì, con uniti si vince, si può vincere? Uniti si tenta di vincere, purtroppo in atto l'unità è l'unica cosa che ci è rimasta per poter provare a rivendicare un diritto che è costituzionalmente garantito che è il diritto alla salute. Come hanno detto già i colleghi, ora l'urgenza è potenziare l'esistente e sbloccare finalmente l'iter di costruzione non solo di un nuovo ospedale ma anche bloccare il rischio che vi possa essere il blocco del turnover. Noi abbiamo necessità di nuovi medici, di nuovo personale medico e paramedico che possa in qualche modo offrire servizi di qualità ad una terra che ne ha disperato bisogno. È fondamentale intanto per far lavorare in sicurezza i medici, che occorrono risorse umane adeguate e una dotazione strumentale appropriata. E poi occorre il nuovo ospedale perché ci siano dei letti tecnici, non serve una pletora di posti letto, ma dei posti letto che possano dare delle risposte in riferimento alla dotazione strumentale di cui parlavo all'utenza e ai cittadini che ne hanno bisogno. E così, solo così, anche il corpo sanitario che è diventato l'anello debole della catena può lavorare in sicurezza perché i problemi sono tanti per un medico, i problemi ambientali, i problemi medico-legali e appunto la risposta sanitaria che un medico deve dare ai pazienti. Certo che è importante, i sindaci della Piana sono tutti presenti, tutelare il diritto alla salute, cosa che ormai viene negata da diversi anni, non è più possibile avere un livello di assistenza adeguato alla popolazione dei comuni della Piana. Il seminario è presente sia con la parte politica, una delegazione di dipendenti, molti cittadini e anche le scuole sono presenti questa mattina. Tutto questo per dare importanza e forza a questa manifestazione che riteniamo sia fondamentale per sollecitare chi di dovere a portare avanti questo progetto. Purtroppo abbiamo delle strutture che sono obsolete e non si fa nulla per fare sì che vengono adeguate. All'ideale è di un nuovo ospedale che non sarà sufficiente sicuramente a garantire l'assistenza e quindi è necessario fare sì che le strutture che ci sono, come per esempio l'ospedale di Polistena, possano essere potenziate, soprattutto dal punto di vista strutturale e strumentale, al di là di quelli che sono i requisiti anche di personale. Per cui siccome ci sono dei requisiti a cui bisogna attenersi, io ritengo che bisogna, quanto prima, già oggi e non domani, fare sì che si attiva ognuno, il Ministero della Sanità, la Regione Calabria affinché questa struttura di Polistena possa essere adeguata e il personale che lavora lì possa lavorare in sicurezza e in tranquillità, non in continua emergenza. La notizia di stamattina, non so se è vera, sembra che i ricoveri e le saloperatorie di Polistena siano state chiuse per problemi di un gruppo elettorogico. Non so se è vero, mi auguro che non sia vero perché sarebbe veramente drammatico chiudere un'attività perché un gruppo elettorogico non funziona. Io partecipo anche in qualità di rappresentante del Comitato dei Sindaci presso l'Asile di Reggio Calabria. Guardate, la situazione è gravissima, oggi era imposto a tutti una partecipazione, non si poteva non partecipare. La situazione è esplosiva, io in qualità anche di operatore sanitario, di medico del territorio vi dico che stiamo veramente alla follia pura. La situazione sta scoppiando, stiamo perdendo il controllo sulla nostra gente e sui nostri pazienti. O le cose cambiano drasticamente, radicalmente o in fretta o guardate che ci aspettano tempi durissimi. Ma non è la prima volta che mi interesso anche in qualità di componente della Commissione Sanità dell'Ospedale di Palmi e della Piana. È chiaro che i ritardi che si sono susseguiti, questa è un'opera finanziata nel 2007, siamo nel 2018 ancora, abbiamo problemi di natura burocratica oltre ai problemi dell'azienda per la costruzione, i cittadini hanno deciso di manifestare liberamente e di scendere in campo per dire con forza che è necessario un nuovo ospedale che era già finanziato ma è necessario anche l'assunzione di medici, di infermieri, di paramedici, di tutte quelle risorse umane che da otto anni a questa parte sono state tagliate. Noi in provincia di Reggio abbiamo 1500 risorse umane in meno e quindi anche nei decreti che vanno fatti vanno riaperte le assunzioni sicuramente e non bloccate come sta avvenendo col turnover.